Stanotte un uomo già noto agli agenti per i suoi precedenti di polizia transitava per via Don Minzoni a bordo della sua moto, è stato fermato per un controllo dall'equipaggio di una volante della Polizia di Stato e ritrovato senza patente di guida, mai conseguita, senza copertura assicurativa del mezzo. Durante la perquisizione personale effettuata dagli agenti, visto lo stato di alterazione evidente dell'uomo, gli sono stati ritrovati circa 10 grammi di marijuana, quantità per uso personale. A quel punto il 27enne si è rifiutato di sottoporsi al drogatest, così oltre a essere stato segnalato alla prefettura di Caltanissetta, è stato sanzionato per le violazioni al codice della strada, gli è stato sequestrato il mezzo ed è stato anche denunciato per detenzione di marijuana per uso personale dai poliziotti della sezione volanti alla procura della Repubblica Nissena.